ciao a tutti il settimo episodio questo quindi allora bulbasaur allenati merda ecco ma perchè quando uso bulbasaur si è troppo scarso bulbasaur e poi no perché perchè non ha effetto non ha effetto su quelli erba dio santo perchè ho sempre usato bulbasaur io e quindi non ho mai avuto scontri contro arti pokemon d'erba io sono un povero illuso non è vero sì livello 8 bulbasaur andiamo forse del mondo ma è tutto a livello 9 non è anche l'uomo se verona siamo dentro magica per non sarà un po' di livello ci spero l'uomo anzi in gioco ultimi 18 non dovrebbe essere piaggianza se ne hanno cambiato niente vero lato tocca uccidilo bravo allora fa un bel di femmine le becco poi sono un carino ti faccio anche pincer pincer allora io ti spiego bulbasaur maschio magica maschio poi ho zig zag un venonat pj e pikachu tutti femmine vabbè sono un playboy pincer se vuoi un pincer devi battere la prima palestra ah e fidare i piccoli otteri sono molto utili po' perchè nella seconda palestra gli tipo erba si si no ma dopo aspetta butterfree è un colotero volante colotero psicopins colotero volante ah no volante però imparere mosse psicosi uh shogu maschio di livello 16 allora prendo vabbè dopo li trovo i coloteri eh quindi vediamo vedere se c'è doppio team ecco paralizzato vabbè diciamo diciamo così no è baiato switch non so però se voglio continuare ad allenare zangus apprendermi qualcos'altro più avanti e anche quello il problema è che tu alleni poco ma all'inizio poi ti trovi quelli più forti dopo allora boh io quello che ho appena trovato quello roccello me lo tengo perchè mi piace però anche zangus normale c'è interessante come tipologia si si perchè più che altro hanno messo delle tipologie un po' cioè che non sono ancora state utilizzate ok andiamo ok buono stantler è stato battuto con la tattica del turbo sabbia no no sempre usata vabbè a parte su verde foglia io prendo ho sempre preso bulbasau perchè perchè è verde foglia eh? perchè è colore verde foglia no perchè le prime due palestre le mandavi via come niente vabbè anche la terza non è che si beh però prendevo diglett si si ciao diglett scusa vabbè fa niente non mi ricorda più da fuori un farfetto non lo facciamo così un farfetto farfetto livello 15 signore adesso questo cosa qua no cazzo di buddha questa cosa qua quella come niente c'è tipo è cinque turni che andiamo avanti facendoci col poco da raffica io e taurus lo sento è la volta giusta è la volta giusta e usare la pozione e poi ti fa fuori con l'incornata oh no ormai ho battuto si capi c'è a meno che non ci sia un altro pokemon ho vinto bravo finalmente anche te la prima medaglia questa sera questa sera è scomparito puntata anche solo per scompare perché scompare il capo palestra come cazzo faccio uscire domina la cura è paralizzata ci sono un'icida del capo vabbè mi devo comunque andare a curare per ripristinare le mosse dimmi che impari una mossa ti prego non posso andare avanti con solo questa no non impari che mossa c'ha ha rugito qualcosa di simile no no a crescita scusa parassi seme e sassata che come sappiamo un cacchio di precisione sul 15 pp allora devo vedere andare a comprare le pokeballs che adesso ok ho deciso ne alleno uno e arrivo fino alla lega con quello tanto non è completa come hack no si che è completa si è completa era crono che non è completa purtroppo troppo troppo non so che fino affatto se esiste ancora se boh magari è stata rapita dagli alieni mi so che è stata armata del settore un po' per quel caso anche se da tre anni che sta settando allora facciamo salire questo zigzagono almeno livello 8 che anche l'ultimo a usare l'icexid eh ma l'icexid a me fallisce contro gli altri tipi erba è normale solo che come ho detto prima io usavo un passo anch'io ho fatto e non è uscito vero vabbè usavo verde foglie quindi non incontravo tpr a questo è l'ultimo po' comunque batto perché si è disabilitato anzi non lo batta neanche perchè si è disabilitato se devo fare che cacchie sto resiglieri ma sta un ps lo devo ammazzare per forza con sassato perchè per la sista non gli funziona c'è tutto che potrebbe anche imparare l'africa eh così con tutti i tipi erba chi? che che imparare l'africa? il cosa qua c'è erba tm27 c'è nessuno livello 16 eh la modificata che figli di alberi eh vabbè non è più un bosco allora caterpirla no va che eh non c'è ragione c'è un cerchio bianco caterpir vabbè sì a questi casi a livello 3 adesso dall'analizzazione un cacuna quanto siamo di tempo? eh sai 8 minuti tu ce l'hai su con gli 8 minuti eh tutte le volte che chiedi che voglio stare tanto muori voglio no a battere la palestra vai che io ho appena battuto l'altra non c'ho voglia più di combattere voglio trovare un un paineco paineco è il mio proprio preferito ah io adoro 4 3 e anch'io è per quello che mi piace paineco no ma continuo sarebbe una difesa speciale da schifo ho detto no basta fare 3 per sempre fare il ritorno per la protezione allora critica lite io ho un ps lui ho un ps usiamo la great ball peneco peneco o scorto comincia con dios allo c peneco si chiamerà pignatta peneco peneco mi vengono in mente sti nomi schifosi peneco 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 pochettino porco ceghevara no prima io li ho modificati ho detto che lo so che non ne ho modificati te il testo dell'h io non ci posso fare niente ah si si e che ha poi in un colpo uh anche lui è un rocciaerba dai rocciaerba contro rocciaerba mi batte lui però eh si con constrict proprio un ps una volta mi raccomando eh dove l'hai trovato quel pokemon eh nella seconda città al centro più o meno guarda che spina da clan cambiato eh ma si e dove non era così su verde foglia e ho battuto il secondo capo palestra comunque sono passati dieci minuti di video e io ho due medaglie e io una oh non è giusto quindi direi che possiamo interrompere anche questo episodio quindi ciao a tutti ci vediamo al prossimo episodio ok addio